Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare. Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta. Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo. Per questo non smettiamo di sognare. Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide. Nuovi modelli di comprensione e inclusione. Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità. Per tornare a credere in noi stessi. Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio e di una nuova lingua comune, la conoscenza. L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà. L'Università Uninettuno si è diventato realtà.